Ma lo stile di Emily in Paris è davvero così disastroso? Ne parliamo nel video di oggi, subito dopo la sigla. Come sono contenta di essere tornata con un nuovo episodio di Ciao Signora, che tra l'altro esce con un po' di ritardo rispetto alla mia tabella di marcia mentale perché volevo digerire per bene tutta la nuova stagione di Emily in Paris. Perché? Perché secondo me è una serie di cui si parla tantissimo perché dietro c'è un marketing esagerato, una cosa enorme, però se ne parla sempre con un po' di superficialità. Ora, alt. La trama è di una superficialità imbarazzante, totalmente priva di contenuto, di spessore inutile. Totalmente inutile perché stiamo rivedendo la stessa storia, succedere, risuccedere, 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 dalla prima stagione fino a un minuto fa. Quindi la parte trama lo capisco che è molto stereotipata, è molto forzata, è molto anche leggera, ma è quel leggero che secondo me a volte ci sta. Io guardandola mi sono sentita troppo vecchia per quella serie, poi mi sono detta, però sai che c'è? È vero che non mi sta dando chissà cosa, però ho staccato completamente il cervello e quindi alla fine, tutto sommato, male non affatto. È comunque molto breve, gli episodi sono brevi, la parte fotografia è splendida, Parigi e Roma, le città protagoniste. Cosa vogliamo dire? Team Roma, ovviamente, per quanto mi riguarda, per ovvi motivi, per oggi vorrei parlarvi proprio dello stile di Emily. Ho guardato qualche giorno fa un'intervista alla costumista Marilyn Fitussi, tra l'altro ve la linko qua sotto, è in francese, sottotitolata in inglese, in cui lei proprio ci racconta il suo processo creativo, soprattutto per questa stagione, quindi l'ultima stagione, per anche affrontare il passaggio tra Parigi e Roma. E mi è piaciuto analizzarlo. È vero che il linguaggio della moda dovrebbe essere immediato, ma se guardate quel video e riguardate anche le immagini della serie, capirete che quello che sembra una cozzaglia di stili buttati addosso, senza senso, alla bellissima Lily Collins, in realtà è un messaggio che viene comunicato costantemente. Marilyn ci racconta che all'inizio della stagione, prima della prima stagione, Emily era ovviamente persa a Parigi, totalmente lontana da casa, senza una sua identità a Parigi, e questo si vede anche nel suo stile, che è molto americano, molto colorato, molto esasperato, molto anche confusionario, per quanto riguarda me, se dovessi giudicarlo e indossarlo, però ha senso per il personaggio. E ci racconta come poi in questa nuova stagione abbia voluto finalmente segnare un cambiamento in Emily, rendendola un pochino più parigina, ma sempre Emily. E quindi lei si è studiata più di 600 lookbook, ha selezionato tra più di 480 designer, per scegliere tutti i vari pezzi con cui ha poi composto lo stile di Emily, e quindi il linguaggio non verbale di Emily. E devo dire che in questa stagione, anche se gli outfit che io indosserei ce n'era forse mezzo, ho trovato questo tipo di comunicazione molto efficace, molto diretta, e quindi anche molto interessante da guardare. Guardo sempre, vi consiglio sempre di guardare lo stile delle protagoniste delle serie TV, perché aiutano a scolpire il personaggio, ed è quello che possiamo fare anche noi nel quotidiano, ovviamente in modo un po' più realistico, e ricordandoci che noi siamo persone, loro sono personaggi, quindi c'è sempre questa piccola differenza. Loro non hanno un budget, noi sì. Però ecco, anche capire dalle parole della costume designer, quindi della costumista, come ha scolpito il personaggio, aiuta a renderlo molto più reale e molto più vero. Ci sono degli outfit di Roma che io ho trovato bellissimi, perché sono un evidente omaggio, che è stato dichiarato anche più volte, al film Vacanze Romane. Non è la prima volta che Lily Collins viene un po' vestita in stile Audrey Hepburn, ma a Roma c'è proprio questa esplosione dello stile Audrey, che è meraviglioso. È uno stile molto bello, molto pulito, queste camicette inamidate bianche, il fularino al collo, la gonna ampia, le ballerine che Emily indossa. È uno stile molto bello, che secondo me si abbina molto bene anche alla trama, perché abbiamo una Emily che finalmente, dopo un inizio di stagione, sempre uguale a quelle precedenti, comincia un pochino a cambiare, e questo si vede anche nel guardaroba. Un altro personaggio fantastico è ovviamente Sylvie, che è secondo me la migliore da guardare per quanto riguarda lo stile, e Marilyn ci dice che come Emily si è ambientata a Parigi, inizia a sentirsi a casa, e quindi comincia anche a vestirsi in modo un po' più parisienne, Sylvie comincia a giocare con uno stile un po' più americano, rimanendo sempre la granitica Sylvie, quindi con le sue scollature, le sue linee molto pulite, la sua sensualità, che quella donna può stare anche ferma, immobile, non parlare, ed è sensuale allo stato puro, però comincia a sperimentare anche con dei colori inaspettati, perché l'una influenza l'altra, perché finalmente Emily viene anche rispettata dalla sua capa, dopo anni in cui, insomma, non è che l'abbia trattata benissimo. Quindi ecco, rivalutare un po' la storia, la trama, e quello che abbiamo visto con questo tipo di consapevolezza, secondo me è interessante, è utile, e può anche essere divertente da ricopiare in qualche modo nel proprio guardaroba, senza ovviamente diventare un personaggio, ma cominciando a capire come si comunicano determinate cose, anche attraverso quello che indossiamo. Inutile dire che mi piacerebbe sapere da voi che cosa ne pensate, e non è ovviamente mi piace lo stile di Emily o non mi piace, perché è talmente tanto esasperato ed esagerato, che è difficile che a qualcuno piaccia tutto quello che indossa, però nell'ottica di quello che vi ho appena detto, ha senso secondo voi il modo in cui viene presentato, in cui si veste, o ancora secondo voi c'è qualcosa che stride? Fatemelo sapere qua sotto, direi che a questo punto andiamo a vedere l'outfit di questo episodio. E visto che l'ho menzionato, direi che l'outfit di oggi, e l'ispirazione di oggi, è proprio questa, molto Audrey Hepburn in vacanze romane, gonna vita alta, ballerine sotto, però con la puntina un po' sfilata, e il cinturino sul collo del piede, perché comunque giochiamo con la moda, camicetta bianca, bella rigidina, inamidata, full arino al collo, e poi in alcune scene Emily indossa anche una giacchina, che poi toglie, quindi c'è anche questo capo extra. Outfit replicabilissimo, copiabilissimo, visto che la stagione purtroppo sta cambiando, questo risulta un pochino leggero per adesso, ma si può giocare con le sneakers, se vi piace l'effetto sneakers, e gonna un po' anche a ruota, un po' romantica, sarà più avanti ovviamente stivaletti e gonna anche in maglia, ma è un outfit che di base può essere veramente replicato infinite volte, anche togliendo la camicia, se vi sembra un po' troppo rigida per il vostro stile, e mettendo magari un maglioncino leggero, o una maglietta, una maglia, anche a righe. Ci sono miliardi di opzioni per più o meno copiarlo, senza davvero copiarlo, partendo ovviamente anche dai nostri accessori. A questo proposito, l'accessore del giorno non sono le sneakers, che pure sono uscite nello shop, le nostre meravigliose nuvola, ma l'accessore del giorno non può che essere intrigo. Intrigo è ovviamente la cintura che sto indossando, io in questo momento ho abbinato al mio abito la versione nera, tra l'altro l'ho annodata perché ho il punto vita molto stretto, e quindi rimarrebbe un po' di eccesso, anzi ve lo faccio proprio vedere se si vede da così lontano. Ok, è una cintura fantastica perché è in pelle, ed è sfoderata, quindi non avete la parte dentro che la rende più rigida, quindi si può piegare, potete fare tutti i nodi che volete, nodi, nodini, potete anche lasciarla morbida, però vi dicevo, avendo il punto vita stretto, e portando l'abito oggi proprio bello rimborsato in vita, ho preferito fare questo tipo di lavorazione a nodo, perché uno, la cintura lo consente, due, rende l'outfit anche un po' più carino, tre, mi piace un sacco, e quindi la porto così, però chiaramente poi la stessa cintura nella stessa taglia, io la porto anche normale, quindi a vita un pochino più bassa, ma anche molto più bassa sui jeans, con tutti praticamente gli outfit. Le cinture sono accessori sottovalutati, non c'è niente di più trascurato, anche se è trascurato easy, non trascurato, oh mio Dio l'ha fatto davvero, di un pantalone senza una cintura, che ha però i suoi passanti, e secondo me a volte cinture troppo complicate, troppo particolari, possono non essere la scelta giusta, questa è quella che proprio tieni abbinata ai tuoi pantaloni, non ci pensi più, non la senti, impreziosisce l'outfit, ma non ti complica la vita, perché come materiale è ovviamente in pelle, è disponibile in blu e nero come le sneakers, ha una fibbia bella ma non impegnativa, e quindi di base dove la metti sta, se vi serve una cintura, questa è la cintura che tra l'altro attiva in automatico la spedizione gratuita nello shop, su tutto l'ordine, inserendola proprio nel carrello, quindi quale momento migliore per regalarvi una bella cintura artigianale, e magari anche, non lo so che cosa volete, se avete bisogno di un'altra cintura ne abbiamo anche altre, ci sono poi ovviamente le borse, i portafogli, la linea da ufficio, porta pc, porta tablet, porta cellulare, e le scarpe, le scarpe tra cui le suddette sneakers nuvola, abbinate proprio ai due colori della cintura intrigo, che sono il blu e il nero, ma che bello essere tornata anche con Ciao Signora, questo format era un po' una scommessa, che ho fatto con me stessa ormai diversi mesi fa, e mi piace, mi piace un sacco, mi diverte, mi dà la possibilità anche di chiacchierare poi con voi nei commenti, di conoscervi meglio, magari un giorno diventerà anche un podcast, quello sarebbe lo step successivo, però per adesso ci teniamo anche l'immagine, visto che ci aiuta anche a vedere, come nel caso di oggi, come uno stile molto costruito, aiuti poi a raccontare anche una persona, o nel caso di oggi, un personaggio, vi aspetto come sempre nei commenti, e nello shop modaessenziale.com